Si arricchisce l'offerta culturale della città della Spezia, in particolare quest'anno, con un legame più stretto col Conservatorio. Sì, l'evento promosso dal Ministero dei Beni Culturali ci vede insieme al Conservatorio per poter apprezzare i talenti e la musica dei vari professori e musicisti che studiano e collaborano con il Conservatorio e anche i luoghi della città. È un altro tocco di classe per questa estate che inizia proprio il 21 giugno con questi eventi che coinvolgeranno tutti gli orari e sostanzialmente tutta la città. Quindi un appuntamento importante che apre l'estate spezzina e che dimostra ancora una volta che collaborare insieme a tre istituzioni porta un valore aggiunto per i nostri concittadini e per i nostri turisti. Il Conservatorio Giacomo Puccini si apre alla città. È un conservatorio che ha una dimensione internazionale e che può dare tanto anche ai cittadini della Spezia. Noi ci proviamo. Siamo un'istituzione statale di alta formazione e quindi abbiamo anche dei doveri che non sono soltanto quelli di formare bene gli studenti e le studentesse, ma anche quello di restituire alla città in termini sia di performance che di cultura in generale. Si parte domani con la terza giornata della ricerca, un'iniziativa a spezzina, però poi si prosegue con un calendario ricco di eventi. Sì, domani è un'iniziativa del nostro conservatorio, però con numerosi corrispondenti nazionali ed internazionali. Ed è una cosa secondo me importante, specialmente per noi, mentre invece quello che riguarda la giornata della musica, la festa europea della musica è qualche cosa, chiaramente, che coinvolge la città in maniera più forte, non soltanto per la giornata del 21, ma in realtà a partire dal pomeriggio del 18 di domenica, dove avremo già un concerto di percussionisti in Sala Dante, e a seguire l'ensemble di sassofoni al castello. Poi tutti i numerosi eventi del 21, che non sto a elencare, però faccio presente che ci saranno sia cose all'aperto, anche in via Prione, per esempio, che al chiuso, museolia, e poi alla fine conservatorio e teatro civico la sera, e poi concluderemo con un concerto corale il 24 a Gaggiola.